se tocca il colore ok ragazzi vediamo che mappa esce allora vediamo che mappa ok qui non ci dovrebbe essere arancione ok ragazzi ecco la mappa allora non bisogna toccare l'arancione anche se qui mi sembra arancione no e vabbè capita allora comunque io non ho ancora toccato l'arancione vediamo di essere bravi ok non ho toccato ancora niente ok vabbè si vede che qui non c'era arancione già che riusciamo ok qui rega non faccio tagli e questo era un'arancione ah cavoli adesso vado pure a sciopella quota gratis perchè non voglio un po' di sparcare le mie robe scusatemi si vediamo cosa esce si sto usando quello crackato vabbè comunque non cambia niente vabbè rega al prossimo video e iscrivetevi al canale bella ciao ciao Grazie a tutti.